Allora La quarta posizione in talla Sta recuperando Con i vettori La Falco va a chiudere In ingresso di turno A sui vettori Mentre sta arrivando Il numero 50 Sta recuperando 26 Diffide di squadra Ci prova la 30 Emma trovò Angelica Piloni Martina De Rossi Anita De Gianni Emma trovò De Rossi Piloni La De Gianni Stacca le altre Ancora un leggero Margine Tra la seconda La terza e la quarta Siamo ai 200 Emma trovò Riesce ad avere La lepre avanti Per non perdere contatto E quindi La plena De Gianni Avrota l'uscita di pulpa De Gianni Trova il finale Applauso a queste due E quindi